Gentili telespettatori, buona giornata. Fratelli d'Italia lancia la raccolta firma per le dimissioni di Di Maio e Lamorgese, ministro degli esteri e ministro degli interni. Giacomelli dice anche 90 arrivi al giorno dalla rotta balcanica e due agenti dell'ufficio immigrazione di Trieste sono stati spostati all'ufficio di Lampedusa. Roma non è mai stata così lontana e Matteoni dice denunciavamo migrazione incontrollata già dal lontano 2014. E così la rotta balcanica si intensifica con l'estate e Roma chiede a Trieste rinforzi per Lampedusa. Per questo e altri motivi Fratelli d'Italia dice no a livello locale con una raccolta firma per chiedere le dimissioni dei ministri Di Maio e Lamorgese. Parallelamente il deputato Walter Rizzetti presenterà una interrogazione alla Camera dei deputati a Roma. Così il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli dice proprio così dopo arrivi anche di 90 persone al giorno. L'ultima notizia è che due agenti dell'ufficio immigrazione di Trieste sono stati spostati all'ufficio di Lampedusa ed è solo l'ultima goccia perché ormai sono quasi otto anni che di rotta balcanica parliamo quasi solo a Trieste e in Parlamento non arriva. Se c'era bisogno di personale all'ufficio di Lampedusa doveva essere sottratto proprio la rotta balcanica. Evidente che il disinteresse totale verso questo problema. E così secondo l'esponente di Fratelli d'Italia abbiamo due ministri come Lamorgese che lo scorso anno dice era venuta qua a dire che la rotta balcanica non era un'emergenza e Di Maio che ormai incontra il suo omologo sloveno quattro volte all'anno e non parla mai di rotta balcanica. Dumping trasfrontaliero e concorrenza sleale. Ora è il momento dice che Trieste dica basta. Ormai fanno più notizie 10 persone su un barcone nella rotta mediterranea piuttosto che 90 su quella balcanica. Da sabato lanciamo una raccolta firme per chiedere le dimissioni dei ministri Di Maio e Lamorgese perché Roma non è mai stata così lontana. Il PD da nove anni continua a propinare la stessa ricetta. Ne parleremo con l'Europa. Ma così non è stato. La vice segretaria provinciale Nicole Matteoni precisa che Fratelli d'Italia è stata la prima a denunciare la migrazione incontrollata sulla rotta balcanica già nel 2014 con un presidio sotto il consolato sloveno. Abbiamo denunciato la totale indifferenza della Slovenia nel far passare questi migranti. Soprattutto siamo stati il primo gruppo politico insieme all'allora consigliere regionale Luca Ciriani, Giorgia Meloni e il vicepresidente del Front National Luis Aliot su questo tema. Intanto il nostro deputato Walter Rizzetto farà un'interrogazione alla Camera per quanto riguarda il trasferimento delle forze di polizia sulla rotta mediterranea. Beh sicuramente è una cosa di cui non si sente mai parlare. Probabilmente se ne sono anche dimenticati. Intanto il Partito Unico fa discutere molto in Forza Italia. Botta e risposta tra Ronzulli e Carfagna. Quindi il futuro del centrodestra tra fautori della federazione e tifosi del Partito Unico continua a dividere il partito di Berlusconi. Beh a dimostrazione che il dibattito ferve c'è un botta e risposta di oggi sui social tra la Ronzulli e la Carfagna, capofila dell'ala moderata azzurra, contrapposta a quella cosiddetta sovranista. La senatrice di Forza Italia, responsabile dei rapporti con gli alleati, è una delle fedelissime di Berlusconi. Commenta così su Twitter le dichiarazioni del ministro del Sud su una grande fusione immaginata da Berlusconi. Dice è viva, si allarga la platea di chi era contrario e che oggi invece dichiara che il presidente Berlusconi ha avuto una grande idea visionaria nel pensare ad un percorso che porterà alla formazione del Partito Unico di centrodestra. Ma dietro questi è viva e vai ci sono tutti degli interessi personali. a pochi interessa realmente a che cosa porta politicamente la fusione, a tanti interessa a che cosa porta personalmente la fusione. Sono giochi per il futuro economico di ogni deputato, a chi conviene la fusione, a chi non conviene, a chi vede un futuro con il proprio stipendio che segue in una fusione, chi invece dice no perché così il mio stipendio lo perdo sicuramente è sempre una questione di soldi. Ma la Garfagna replica con un tweet e dice a te che sei responsabile dei rapporti con gli alleati l'arduo compito di convincerli a convertirsi all'atlantismo, all'europeismo e ai valori del popolarismo europeo. Certa che ci riuscirai dice in modo decisamente sarcastico. Intanto passando vediamo a un'altra notizia è proprio Berlusconi che lancia il centrodestra italiano, CDI, questo sarebbe il nome che lui ha depositato da un notaio già da parecchio tempo. Sul partito unico il Cavaliere dice lo sogno dall'inizio. E certo, porterebbe però vantaggi solo a lui. E c'è una prova di unità. Dopo la lunga trattativa e tanti stop and go alle ultime settimane è finalmente il giorno di Roberto Occhiuto, candidato di tutto il centrodestra per la guida della regione Calabria. in ticket con Nino Spirli che dovrebbe essere poi il vice. Per celebrare l'accordo si ritrovano tutti i leader. Ci sono in presenza la Mezzia Terme, Salvini, Tajani, Ronzulli e in collegamento Berlusconi, Giorgia Meloni, Lupi, Totti e Vittorio Sgarbi. Una platea ampia a cui Licia Ronzulli chiede subito di unirsi nel ricordo della governatrice scomparsa. Un minuto di raccoglimento. Sono onorato di questa candidatura, dice Occhiuto, che per il momento non lascerà il ruolo di capogruppo di Forza Italia. La Calabria non è ingovernabile e lo dimostreremo, dice. Quella che mi aspetta è la sfida più entusiasmante per un uomo delle istituzioni che è nato qui e che si candida a guidare la terra dove è nato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Grazie a tutti, ricordatevi che nei sondaggi, nella community ci sono tanti sondaggi quali poter partecipare e commentare e c'è anche la pagina su Facebook Tele Italia e l'altro canale qui su YouTube Tele Italia Seconda Rete. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.